Pare sia stato trovato l'autore dell'incendio degli ecocompattatori del comune di Sommatino. Il fatto avvenuto il 27 luglio, quando sono stati danneggiati considerevolmente due autocarri della ditta che gestisce lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti per il comune. In seguito alle indagini degli uomini dell'arma è stato individuato come autore del fatto un giovane che presentava notevoli bruciature medicate superficialmente con il supporto di una perizia effettuata da un medico legale è stato riscontrato che le ustioni corrispondevano ad un fatto incendiario di notevoli proporzioni. Il giovane non ha saputo dare spiegazioni del fatto e in base a tutti gli elementi raccolti dunque il ragazzo è stato denunciato a piede libero per incendio doloso.